lo spezia, poi assist direi nel secondo della sua carriera in Serie A, Felipe Anderson con il palleggio e poi con la trasformazione torna a segnare anche Felipe Anderson, segnato dal 2018 ovviamente con la maglia della Lazio poi se n'era andato in premier al West Ham è tornato, la classe è rimasta quella, altro assist di Luis Alberto per Usai